buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video oggi video unboxing apriamo le buste dell'edicola sì così mi faccio il mio bottino da portare poi all'asilo appena si potrà allora sono andata quindi in cartoleria a prendere queste pacchi sorpresa ma prima di vedere che cosa c'è dentro iscrivetevi al canale seguitemi su instagram attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like ora possiamo iniziare allora una borsa gigante con una di quelle belle grosse plasticote guardate che carina allora prima busta scopri tutte le sorprese sì vediamo che cosa c'è dentro allora allora vediamo cosa c'è ci sono altre giornate allora colora e costruisci la casetta di big con tante altre sorprese quindi apriamo allora innanzitutto troviamo questo poster di big che penso sia questo qui carino con il vietto carino poi troviamo belli tanti adesivi oh questi sono carini carini anche da decorare l'agenda eh che dite carini poi cosa abbiamo ancora allora qua abbiamo un giochino mentre di qua abbiamo i personaggi da colorare poi c'è poi c'è ci ha ancora una roba dito poi abbiamo ah allora sembrerebbe una casetta non riesco è una casetta vedete una scatolina casetta o da metterci dentro qualcosa colorarla e comporla è carino i bimbi trova super divertente ma quella lì anche e poi ci abbiamo proprio tutto abbiamo trovato dei peinarelli per colorare tutte queste cosine dai che carina ma è proprio simpatica questa busta allora rimettiamo tutto dentro a vedete la casetta come viene vediamo perché fa un po di luce spero che creda questa cosa questa busta è così tutti in vacanza con big allora e troviamo allora altro poster a che carino bellissimo poi altri adesivi che per l'agenda sono carini e poi troviamo sempre un altro foglio da questo è un gioco e da colorare poi cosa c'è ancora e qui troviamo un braccialetto un braccialetto vedete quelli che si arrotolano simpatico simpatico poi altra busta tranto senza audio allora dicevo altra busta questa è così gioca con big e i suoi amici con tante altre sorprese e troviamo sempre un giochino e troviamo sempre un coniglietto da colorare poi adesivi come se non ci fosse un domani è un poster diciamo che queste tre buste sono bene o male tutti uguali con la stessa tipologia di prodotti quindi adesivi post per colorare e imposte poi cosa c'è ancora dentro allora qua abbiamo guarda e colora abbiamo un libricino così insomma un libricino da leggere qualche giochino carino oddio questo si è un po rovinato guardate che bello un puzzle carino questo peccato che si ha preso un po la forma del del pacco perché l'hanno piegato però carino e poi dietro c'è un altro pausa ma da colorare bello si non ve lo apro perché sono a casa busta marty vediamo cosa c'è dentro peccato che ce n'era solo una bella barbie e io vorrei trovare una barbie dentro ma troviamo un altro sacchettino questa è la box dei sacchetti e troviamo troviamo queste qua queste bustine qui forse ci sono i cuccioli della barbie vediamo apriamo li apriamo oh no no ma questi me li tengo che amore forse li apriamo tutti ah questo è così questa è stupenda rosa barboncino rosa che carino vabbè come farmi felice con poco ragazzi e qua cosa ci sarà mai altri cagnolini questo sembra un gattino un cagnolino che carino oh e questo è diverso sembra un labrador questo carino è vuoto non c'è la barbie non so di trovare la barbie niente poi apriamo cars apriamo cars per i maschietti vediamo un po cosa c'è dentro allora allora troviamo questo giornale che da colorare da colorare poi ci sono qualche fumetto e troviamo anche i giochi carino e poi guardate guardate mio figlio ce l'ha ce l'ha grande questo bellissimo bellissimo cricchetto bello vedete cioè io mi diverso aprire queste buste mi diverso tantissimo mi fa tornare un po' bambina e mi fa dimenticare nella situazione che viviamo guardate guardate bellissima questa qua è da colorare abbiamo anche il poster e è una corsa si corre vedete e poi sempre il fumetto insomma quello è quello di prima e qui troviamo questa ecco quello gli serve per correre bella bellissima bellissima ne è un altro del carnevale allora vediamo cosa c'è per il carnevale occhialoni giganti occhialoni giganti vediamo vediamo qualmi stanno sono enormi sto cercando di fare in fretta perché c'è il mio marito che deve guardare la partita e mi sta aspettando su noi le maschere il gatto e questo qua non so un mostriciattolino ah ma ce ne tante no che bello questo belle le maschere qua niente wow bellissimo questa è stupenda bello il gattino l'elastico vi faccio vedere queste due cose mio marito ha voluto prendere il calendario del Milan con le figurine vabbè sapete com'è il calendario non ve lo apro ha voluto prendere l'agenda l'agenda che è fatta così dentro c'è il mio cane che continua a grattare la porta è ora di chiudere niente spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia strappato un sorriso perché quello era l'intento e noi ci vediamo domani con un nuovo video ma prima vi mando un bacio e raga facciamo festa ciao 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 ciao